Allora, continuiamo con la comicità? Due giri, due giri. Allora? Che istime, ragazzi. Oh, fratello, quando mi avevi detto che c'era la gnocca? Fratello, Dio. Che cosa gli devo dire? Che adesso arriva. Non è che la fiasi tutte e due. Ti presento il mio migliore amico. Lui è il tuo miglior amico? Sì. Cocomero. Ah, Cocomero. Ma ho capito perché lo chiamano Cocomero. Perché? Mi chiamano quello, fratello. Ah, perché? Perché lo vedi grande, ma il nocciolino ce l'appicco. Il mio lottolino, il mio lottolino. Ma chi è sta qua? Dai, come fai a non sapere chi è sta qua? Va bello. Ti piace, mi frutto. Mi piace da solo, ma se non so chi è, fratello. Dai. Come ti chiami? Vanessa. Mi chiamo Vanessa. No, no, di nome, di nome. Vanessa è il mio nome. Vanessa. Si chiama Vanessa? Sì. Sai che i somigli? No. Oguadio. A quella lì che presenta la trasmissione dei comici, fratella. A quella spagnola. A quella negrata. Appena la vedo, cambio canale. Guarda, ho tutto calcio. Tutta la vita. Hai capito chi è, oh? E quello ignorante, oh? E quello che presenta col vecchio. Ah, non ho capito chi è. Posso? Scusate, io non è che voglio... Cla, io ti voglio... Guarda. Eh, guardo sì. Quale c'è scritto? Io ti voglio bene, Cla. Hai 53 anni, due figli, ma... Ti schermo fratelli. Ti schermo fratelli, a chi? Ma come ti sei vestito poi? Ma che c'è il mio vestito? Ma come si fa ad andare in tuo vestito così? Ma ti glielo anche tu, eh, dai, eh. Con i pantaloni della carica dei 101. È vero. Con la maglietta con scritto Gli. Ti stimo, fratella, sono già. Che fatica! No! Disastro! Non mi sono messo in gel! Disastro! Ma come fai? Disastro! Sono io, te lo do io, fratello. Tirati su. Non è niente, dai. Tirati su, fratello. E tirati su! T'appento, va? Oh, scherzo! Me l'ho messo! Ma sono grandi! E per questo brilli, fratello! Oh, fratello, la classe non è... Io. La classe non è... Quando? La classe. Si dice, la classe non è... Una mista, fratello! Acqua! No, grazie, non lo scelte, fratello. Ah, no, no. Ma dinti quella volta che siamo andati in discoteca, che quella musica... Abbiamo spaccato! Abbiamo spaccato! Che cosa avete fatto? Abbiamo messo quel pezzo che spacca. Come che fa? Spacca veramente, è spacca! Cominciamo col nizio. Sono otto! Che male che l'ha rotto! Ma te lo ti piace! Che no male! Ti piace! Eh, ti piace! Oh, ti schiace! Diti cosa hai fatto! E io, a un certo punto, c'è la cubista, punto la cubista le faccio, oh! Sguardo sensuale! Che sguardo! Complimenti! E lei mi fa! Oh! Che presa! Che presa! Che presa! Gli ha fatto il cuoricino! Gli ha fatto il cuoricino! Gli ha fatto il cuoricino! Questo non vuol dire cuoricino, scusa, eh! Era il cuoricino l'incontro! Ma non è vero! Io invece, io invece ho puntato l'amica, fratello, era di Roma, ma non c'è niente da fare, fratello, io c'ho un debole per le romagnole, fratello. Eh, lo immagino! Tutte, tutte! Allora, la accompagno a casa in macchina, arrivo sotto casa, parcheggio, spengo la macchina, ho subito incominciato a baciarla. L'ho visto? Io fuori dal finestrino così. Eh, tu, fratello! Mi sembrava un po' pazzetto con le ventose! Allora, allora, dopo un quarto d'ora di baciamento, fratello, mi fa, oh! Eh? Oh! Guarda che stai baciando il po' già testa! Che gira! E siamo! E siamo! E siamo! E siamo! E siamo! E siamo! Giovanni Maria! E Claudio Vizio! E siamo! E siamo! E il panino! E siamo! E siamo! No! Claudio Vizio! Vatemi questa suonos! Due grandi comici! Vabbè, lui... Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Claudino! E' un libro! Ah sì, sì, scusami! Il libro di Giovanni, che è uscito qualche mese fa, ma forse si trova con... Chiedo scusa alla Feltrinelli! E siamo noi! E siamo noi! Vi lego qualche pagina! Ah 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 ah! Due ore così! Aspetta spazio! Spacca sto libro! Lo voglio dedicare a tutti i miei fan sul fan club di Facebook ufficiale! Quante ce ne sono? Quasi un milione mi avevi detto! Spettacolo! E' un spettacolo! Vuoi salutarli? Consiglia! Antonella, Giulia, Antonio! Un milione! Buonanotte! Vi imparate a memoria, fratelli! Il grande Giovanni Verdia! Grazie! Grazie! Grazie, amico! Vanessa è incontrata! Ciao! Grazie!